Abbiamo deciso di concentrarci su un ambito che interessa sicuramente tantissimo gli editori, ma senza dubbio anche gli advertiser e i buyer, che è il tema del dato. In questo momento siamo convinti, come Prime Real Time, che sia assolutamente necessario dare a tutti i publisher la possibilità di riprendere il controllo del valore della propria audience, della propria utenza. Per farlo noi ci presentiamo sul mercato con un prodotto, il Prime Data Collector, o un vero e proprio Data Marketplace, che fornisce agli advertiser l'opportunità di poter comprare e di poter utilizzare dati fondamentalmente legati agli interessi e alle intenzioni di acquisto, dati originari italiani, che sono stati validati da Tecnologia Adform e che dà agli editori, per il modello di business che abbiamo definito insieme a loro, l'opportunità di valorizzarli in modo accurato, adeguato alle loro reali potenzialità. È una soluzione, soprattutto direi per editori molto verticali e dalle enormi potenzialità, che ci permetterà di fornire importanti soluzioni, anche attraverso private deal legati appunto al dato, ai vari buyer che vorranno e che potranno ovviamente accedere a questa offerta su piattaforma Adform e non solo. Quindi mi aspetto sicuramente un interesse particolarmente importante e straordinario su questa nuova opportunità per la domanda e l'offerta del programmatic advertising in Italia e ovviamente vi aspetto per le prossime novità di Prime.